eccoci qua è meraviglioso noi balliamo facciamo diciamo come posso dire facciamo un po di coreografia anche noi che ci piace sempre parecchio anche perché fa molto estate con il nostro DJ Daniele che ci stava mettendo adesso Bob Sinclair con Raffaella Carrà un connubio davvero particolare quello che invase l'estate due anni fa ma adesso facciamo come posso dire una piccola pausa con i nostri video e andiamo come sempre a vedere un altro dei tanti cocktail che il nostro barman ci consiglia perché il cocktail come posso dire si è un po è un po l'essenza dell'estate si sa noi diciamo sempre di bere responsabilmente ragazzi potete anche bere qualcosa in più però fate guidare chi non ha bevuto che è sempre una cosa carina una cosa conveniente per tutti dobbiamo dire la verità sì sì assolutamente ma adesso andiamo a vedere qual è uno dei tanti cocktail che ci consiglia il nostro barman ricordiamo il nome lo dice lui ma semplicemente perché è bello che ognuno si presenti che posso sempre presentare io dovuto parlare ma nessuno qui ecco qua buonasera sono lorenzo lorenzo allora lorenzo vedo che qui stai preparando cocktail a manetta e abbiamo le ragazze non ti girare alessandro perché come si gira con le ragazze lui lo perdiamo quindi intanto facciamo vedere un secondo cosa ci preparerà il nostro lorenzo allora facciamo un vodka sour passion che sarebbe che sarebbe non lo so perché io sono a stemio quindi per me poi da un acqua e va bene misceliamo del della vodka secca con siroppo di zucchero succo di limone e frutto la passione maracuja maracuja bello no beh non lo ha un liquore e quindi non infatti non lo avevo mai sentito dire perché io non non frequento va bene prego prego vai facci vedere la preparazione vai vai che non ci piace vedere le preparazioni dei cocktail tutte queste cose qui è una cosa meravigliosa eccolo qua o le maracuja poi mettiamo spiegaci quello che stai facendo anche anche le dosi e che insomma allora abbiamo versato un oncio e mezzo di vodka e un tre quarti d'oncio di e ora aggiungiamo il nostro sour e poi andiamo a pensare ok e allora via dai su su versiamo facciamo vedere un po tutto adesso aleti puoi un attimo girare ecco dalle ragazze benissimo rigirati subito ale 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 e basta mamma mia come vede una ragazza è finita una cosa incredibile non si può vabbè è così eccolo qua eccolo qua cocktail adesso lo shakeriamo giusto e si dice così vero ale eccolo qua cocktail shakerato e adesso siamo pronti per servire quello che è il cocktail dal nome lo ricordiamo vodka sour passion vodka sour passion eccolo qua o lei aveva questa colorazione abbastanza neutra sentiamo poi come sarà questo sì ecco una piccola variante ci aggiungiamo un pochino di vaniglia per addolcirlo ancora più per le ragazze e allora un pochino di vaniglia per addolcirlo intanto questo momento di romanticismo è arrivato anche un altro ragazzo di clip summer eccolo qua benissimo ale è andata male così è fidanzata niente da fare vabbè ale ti è andata male mi dispiace ale ti è andata male favoloso lo capito solo adesso vabbè comunque è così eccolo qua siamo pronti allora gianna poi limoni dopo allora puoi prendere i tuoi cocchi il tuo cocktail ok ecco qua potete assaggiarlo bellissimo meraviglioso eccezionale stupendo eccolo qua è spettacolare spettacolare è in italiano perfetto detto questo adesso andiamo a vedere un altro dei tanti video di clip summer con l'estate 2008 quindi facciamo un passo indietro rispetto ovviamente al 2013 e andiamo a vedere l'Igabue con il centro del mondo